Allacciate le cinture! Da Walt Disney Home Video, Bianca e Bernie, gli adorabili protagonisti di tante avventure, sono tornati. Siamo per decoltare! E questa volta, i più piccoli eroi Disney partono per la loro impresa più grande. Guarda l'anno! Uno di retti verso un mondo eccitante e pieno di meraviglie, in Bianca e Bernie nella terra dei canguri. Ambientato nello splendido introterra australiano, Bianca e Bernie nella terra dei canguri, è la storia commovente dell'incredibile amicizia tra un bambino di nome Cody e una magnifica apila. Mino a quando un malvagio bracconiere minaccia di separati. Però, unendo le forze con il loro nuovo amico Jake, Bianca e Bernie corrono contro il tempo per salvare Cody e la sua apila. È l'avventura Disney più eccitante che tu abbia mai visto. Un film sorprendente che ti farà volare con la fantasia, con tutti i momenti divertenti, le tenere amicizie e l'incredibile emozione di questo spettacolare salvataggio. Un film che ti porterà oltre i confini dell'immaginazione. Il più nuovo film Disney è già un classico, Bianca e Bernie nella terra dei canguri.